Dove si compra questo Fortnite? Oh mamma mia! Oh! Ah! Le è entrato un razzo in mezzo alle gambe! Quanto godo! Oh mio Dio! Ragazzi, dopo un sacco di tempo sono tornati! Sto parlando del cringe fatto a video! Io e Mango... Ciao! Reagiremo ai TikTok più cringe su Fortnite! Ragazzi, ne abbiamo visti di tutti i colori, ma oggi sarà ancora peggio! Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché non ce n'è mai abbastanza di TikTok super cringe! E assolutamente, se volete la prossima reaction, dobbiamo arrivare a 10.000 mi piace! E vi ricordo che se inserite il codice SHIKO in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una serie su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni! Ok, Mango, sei pronto? Prontissimo, vai! Ok, io no, iniziamo! Ma cos'è? No, è Fortnite! Nella vita reale? Bello, mi sembra molto... ma che cavolo? È fatto proprio bene, sicuramente non è ammatoriale, eh! Assolutamente no! Uh, pesce secchi! Ok, prossima clip! No, non può mangiarlo lui, eh! Ti ricordo che è vietato dalla community dei pesci secchi! Non guardate, bravi! No! Beh, non hanno guardato quindi... Ok, ma che carino! Lo fa vincere! Ma lui l'ha ammassa, ma che cavolo è? Ma che significa? Cosa? Ma? Era un pro player, ha fatto il finto nabettino, brutto pisellino! Ah, l'ha trollati! Oh, che fa questo? Oddio, il rampino, che bello! Oh, fa i trichettoni? Ma? Cosa? Si può fare una cosa del genere? Non ci credo! Ma che cavolo! Attenzione, attenzione! C'è chinata, vai! L'ho già visto! È fighissimo! Cioè? Ma? Sì, va bene, va bene, ciao! Dove si compra questo Fortnite? Ok, ok, l'ho già capito, ho già capito! Lo fa passare tutti i guanti, no! Mamma mia! Ma che cavolo! Ok, questo è... È veloci! Ok, questo è Shane quando gioca e si impegna! Ma che cavolo? Ma questi sono macro, però! Eh, ma... Si è arreso! Non ci ha capito più niente e diceva, basta, uccidimi! Dai, uccidimi, bro! Vai! Che fa? No, il suo amico nella safe! Salvalo! Una granata! Bravo! L'ha salvato! Sì! Cioè, sta pescando! Ok! Un flopper normale! Oh, no! Ti han beccato! Oh, vendetta! Hai mangiato uno dei pesci! Ok, una banana con dietro una... Ha una banana dietro una banana! Like se ti piace la banana... Qual è il tuo... Ok! No, ma che violenza! Tutti i pesci contro la banana! E la bruciano pure, ma dai! No! Comunque ragazzi, scrivetemi nei commenti qual è la vostra skin preferita in assoluto! La mia è il cavaliere nero! Mia è la bananita! Davvero? Anche se la stanno per buttare giù da un cavolo di... Infatti, infatti, no! 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 Ma che cattiveria! Oh, hai capito! Eh, vabbè, è solo questo però! Io ci trovo le lattine! Esatto! Ehi, che tranquillità! No! Cos'è? È il vecchio cam... Ah! Troppi ricordi! Aia! Madonna! Oh mio Dio! Un evento! Ma, ma mi compri Fortnite? No, abbiamo già Fortnite a casa! Beh, ci andreste mai in un posto così, raga? Oddio, quanti Deadpool! Ma? Quanti sono! Che mi immagina che casino con tutti quei Deadpool insieme! Ma che fanno? Ma? No! Ma da chi? Ma che cosa? Ma non capisco! Non ho capito nulla! Ehi, Joe! Ehi, Joe! Vai, passbattaglia, devi farmi un trickshot mentre fai la verticale! Cosa? Sì, vabbè! Sì, questo video è più finto di Mango! Che casca sulla televisione, sicuro? No, spero di no! Ok! Ma non ci va dai! Ma non è possibile! Era una clip! Sì, è già salvata! L'ho fatto una verticale! Oh no! Mamma mia! Che culo, ragazzi! Che culo! Mamma mia! Oh! Oddio! Ok, grazie al cielo che non ci sono più gli squali! Mi li ero scordati! No, aspetta un attimo! Mida dorato! Sì, ma... Ma... Cioè, sono... Ah, giusto! Non c'è niente! Mida dorato e sta volando! C'è un piccolo dettaglio! È giusto! Ma quello pure che vola! Ma chi è? Non aveva modo da volare con le ziplane, non lo sapevo! Ok, va bene! È ok! Beh, ma... No, cos'è sto coso? Il coso... Ma? Impostazioni? Ah, la mira assistita! Oh, mamma mia! Eh, vabbè, ciao! Raga, scrivetemi nei commenti se giocate da controller o da mouse e tastiera! Io da controller! Io mouse e tastiera! E questi stanno facendo vincere questo tipo! E adesso sarà un po' player, vedrai? Eccolo, lo sapevo! Cavolo! Che sfiga! Oh! Oh! Che betuffi! In piscina! Oh! No! Ma? Dov'ha? Oh! Vabbè, baggato! Ma che cavolo! Ma che cavolo! Attenzione, sta per arrivare il drop mango, preparati! Su le mani! Eccolo! Eccolo! Mamma mia, ma quante ore ci ha messo? Eccolo! Che drop! Ah! Non so che canzone sia, ma la conosco e non so il motivo! Sì, questo fa il trick! Attenzione! Ma ci sta mettendo un quarto d'ora a cadere! Dov'era? Sull'Everest? Ma infatti sembra tipo a rallentino! È vero, ma non c'è la gravità? Sono confuso! Adesso si suicida! No, vince, vince! Guarda! Ma! Vabbè, vabbè! Sì, ma neanche in un server privato! Cos'è sto buco? Cos'è? È una grotta! Ma hai visto un buco io? Così? No, così profondo no! Non... Sono confuso! Ah! Oddio mio! Mi sono spaventato tantissimo! Ma da quando fa... Che cavolo è? È il buco dello squalo! Ok! Ragazzi, ormai sappiamo già cosa sta per succedere! Dai! Dai, fai... Uccidilo! Forza! Ah, vedi, lo trolla! Boom! E adesso è il nuovo buga! Dai, facci vedere! Ma lo sapevo! Attenzione, una renegade rider! Mamma mia, che bella quella... Edit! E qui le macro non ci sono! Mamma mia! Si è arreso! Si rendono tutti quando vedono così, ma probabilmente lo farei anch'io, sì! E anche io, eppure è una skin vecchissima, questo! Sono due skin rarissime! Guarda! Le renegade della Recon! Eh, ma la Recon adesso è uscita nello shop, ce l'hanno tutti! Giusto! Era, rara! Ah, io la conosco! Scrivetelo nei commenti, però non mi ricordo come si chiama! E io non la conosco! Sì, è famosissima, non mi ricordo come si chiama! Non la conosco! Ma... Esatto! Aia, qui col cichino non sei tanto bravo, bro! Non sei tanto bravo! Invece è la vecchia mappa! Non sei tanto... Oh, sì, è la vecchia mappa! Oddio! Che bello qui tutto rosa! Oh! Ma... Non è un altro, attento però! No, bro! Non si alza! Ah, no, ok! Evita lo... Evita lo occhio! Occhio, occhio! Oh, mio Dio! Cosa è in mezzo alle gambe? Le è entrato un razzo in mezzo alle gambe! Ok! Oh, un combattimento! Aia! Pensavo fosse acqua! Ha perso! Cosa succede qui? È un trick! Cosa sta succedendo? Ma non lo so! Sono confus... No, co... Ma? Oh! Ma questo doveva essere a terra! È sembrato figo ma non ho capito nulla! Ma ha ucciso qualcuno mentre era a terra! Ma sono confusissimo! Ok, ok! Aia! Squalo vendicati! Squalo arrivo! Squalo! Ma non è che paura gli squali! Mi erano proprio dimenticati! Ma? Di quante season fa è sto video? Madonna! Questa è la season 3! Ma nemmeno esisteva TikTok quando hanno fatto sto video! Oddio! Ma me lo ricordo io! Adesso c'è il razzo che si prende da solo e si ricavalca al vecchio razzo! Ah! Sì! 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 Ma è vecchissimo! Ma sarà della season 4, raga! E già non era ancora caduto il meteorite! Guardate in cielo c'era il meteorite! È la 4 allora! È la 3! Ma che... È la 3! È vero! Raga, io voglio tornare indietro nel tempo! Dai, che se anche voi volete tornare alla season 3! Cos'è sto coso? Aia! Quando ci stavano i meteoriti così? Aia, fatti cadere! Questo è un genio! Non erano i meteoriti, erano i pisellini! Ah, giusto, giusto! I robot là! Ok, una skin della season 3! Giusto, stavamo parlando della season 3! È arrivata la skin della season 3 nel capitolo 2! Il viaggiatore oscuro è bellissimo! No! Non lo lascia cadere! Dai, che fastidio! No, che antipatico! Ti prego! Aspetta! Quanto godo! E adesso non lo fa cadere! No, lo ha fatto cadere! Immagina proprio lanciarlo! Boom! E hai fatto bene! Velozissimo! Ha fatto bene! Ok, oh mio Dio! Oh, oh! Qualcuno vuole uccidere Deadpool! Da quando ci sono queste robe su Fortnite? Sono confuso! Deadpool è... Ok! Ha vinto Deadpool! Oddio, cosa vuole cavalcare? I radzi? I quelli che mandano a fuoco le cose che non esistono più? Non dovrebbe andare a fuoco con lei! Ma no, io ragazzi, non ci credo che esistano robe del genere! Oh! Guarda la matita che fa così! Basta che tieni premuto, no? Oh! Cioè? Che figata! Si sono uno capitolo uno! Si sono uno capitolo uno! Ciao bro! Bro? È la primissima! Tutto ok bro? Ehi! Johnny sì! Siamo... Ma purello, ora si gira! Boom! Eccolo qua! Il nostro amico! Cosa fanno? Gara di picconi? Ma che sta succedendo? Sono appena atterrati, non hanno niente! E' quello che ha trovato l'arma... Eh beh, è successo un casino e non ho capito nulla! Ok? Triplo razzo, quadruplo razzo! Vai, vola! Vola! Eh, vabbè! Vola! Vabbè! Scusate, ma come mai io non riesco a fare mai queste cose? Eh, sì! Sì, ma bro, questo sarà rimasto un pomeriggio intero a fare sta roba! Adesso gli passi in mezzo alle gambe del pesce! Come quell'altro? No, sopra! No, sopra il sedere! Oh! Oddio, che mal di testa! Aiuto! Ma che cavolo succede? No, no! Non lo posso guardare! Ok! Ma è bellissimo! Guarda che arriva! Bello! Bello, bello, bello! Oh, mamma mia! Devi mettere la sensibilità a 3000 e girare su te stesso mentre cadi! E teni premuto, è facile! Ma che figata! Adesso arriva il rosso! A noi via... Wow! Oh mio Dio! E niente ragazzi, i video di oggi devo dire che più che cringe erano epici! Belli, tutti fatti bene, bellissimi! Ma che figata! E niente ragazzi, mi raccomando i 10.000 mi piacciono se volete il prossimo video di TikTok! E per ora, noi non possiamo fare altro che salutarvi e ringraziarvi! Perché nei commentari ci becchiamo al prossimo video! Mango saluta! Bella! Woohoo! Lui non capisce che ogni volta che ora non si sente! Bella!